di inaugurare la serie dal dischetto Rigore perfetto di Cristiano Ronaldo È il suo turno La messa all'incluso, niente da fare per il portiere Rete ha scelto l'angolo giusto Trasformazione perfetta, nulla da fare per il portiere E c'è il gol Ha rischiato qui calciando centralmente Sperava che il portiere si muovesse e così è stato Rete, non sbaglia Si presenta sul dischetto Rete E il portiere si salva Ha intuito tutto e ha sventato il penalty La mette E adesso tutta la responsabilità è su di lui Deve metterla dentro a tutti i costi E c'è la parata Tutti ad abbracciare il portiere Lui l'eroe del match I compagni contavano su di lui E non li ha delusi E non li ha delusi Noi, no li ha delusi